Lettori e futuri lettori della libreria Ville Storie, buongiorno! Questa è una settimana ricchissima di eventi. Cominciamo subito con due ospiti molto importanti che verranno domenica mattina alle 11 e mezza alla sala del consiglio del comune di Fagnanolona, al castello Visconteo. Marco Cattaneo e Billy Costa Curta che verranno a raccontarci il calcio e la bicicletta scomparsa. Il 4 all'8 di dicembre c'è la fiera dell'editoria, della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi a Roma. Se qualcuno è in giro io sarò lì mercoledì e giovedì mattina fino al primo pomeriggio perché giovedì sera alla biblioteca Frera di Tradate incontriamo Chiara Moscardelli che ci presenta Extravergine. The Day After, il giorno dopo, il 6 di dicembre alle ore 18, presso l'aula magna della scuola media fermi di Fagnano arriva finalmente Luigi Garlando, Mosche, Cavallette, Scarafaggi e Premi Nobel. È la storia di un ragazzino che grazie alla sua forza di volontà diventerà il braccio destro di Rita Levi Montalcini. Non perdetevi l'evento perché sicuramente ci sarà tantissima gente. Ah visto che si avvicina al Natale, consiglio di regalare un libro.